tra i latti vegetali quello di anacardi è uno dei più buoni e più salutari oggi vi insegno come prepararlo con l'estrattore essenza gli ingredienti per questa ricetta sono molto semplici e sono due 200 grammi di anacardi e un litero d'acqua fresca mettete in ammollo gli anacardi con un pochino d'acqua per 12 ore circa una notte io questo l'ho già fatto e quello che dovreste fare successivamente è scolarli e sciacquarli unite gli anacardi con l'acqua fresca dopo averli sciacquati e iniziate a passarli dentro all'estrattore una volta estratto tutto quanto il latte dagli anacardi potete decidere di reintegrarlo all'interno degli scarti per fare una seconda estrazione o se come vedremo in un altro video volete fare un pochino di formaggio d'anacardi potete estrarli una volta sola ecco pronto il nostro latte di anacardi